A proposito di nomi moderni, ha fatto fatica la moderna a pronunciare la titolo. Comunque, effettivamente mi piace di tanto il problema proprio di strade. Allora, io che sono qua e qui ci sono anche alcuni metodi molti, ma poi sono state le analisi. Per spiegare che lavoro c'è da fare, purtroppo ho venuto ancora da fare, per commettere i servizi di andare, spiegando la stasera del racconto, di essere usufruibili in punti, non facile da usare e nel tempo anche costruibile in un costo possibile. Quando siamo partiti abbiamo parlato di visione di costruzione del sistema operativo del Paese e quello che avete visto adesso è uno dei componenti del sistema operativo del Paese. Costituito da componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici e efficaci per i cittadini, che è Roberto Pinto, che si è dato un buon esempio. Cittadini pubblici, come se non sei l'inglese, hanno perso il prodotto di visitare i compagni. Quindi questa è la visione sulla quale stiamo lavorando. La missione è, ne abbiamo visto gli esempi, proprio prima, e vengono a questi servizi semplici, accessibili via un bio, questo è il concetto di base fondamentale, visto che soprattutto le nuove generazioni, ma non solo, non è credente, perché l'hanno già solo un bio costitutto, con architetture scalabili, sicure, altrimenti affidabili e basate sulle facce applicative che vengono esposte a chi vuoi lo sviluppare. Perdonatemi seguito su qualche tecnicismo, ma è molto importante per capire, e qua non spaventate, la terapresa colorante, non riprendetevi di portare attenzione, cioè quello che ha scritto la testa prima è la parte sottile, da parte dei servizi digitali, servizi digitali che provengono e non sono all'interno dei cosiddetti ecosistemi. Abbiamo scritto tutti gli assessori, più o meno tutti gli assessori, dove si è dito rappresentano qualche uno di questi ecosistemi, dalla sanità, dalla welfare, la giustizia, le comunicazioni, la restrizione, e è scritta anche la parola interoperabilità. una delle più grosse opportunità, se sto mettendo la negativa, la negativa, la positiva, la più grosse opportunità è rendere i vari sistemi che esistono interoperabili, ovvero c'è che parli di un po' sto parallelizzando proprio il centro di questo. Ecco, dalla parte interoperabilità, è giusto quello che c'è interoperabilità, se ci cerchiamo assieme ad Aged, di, e ha tantissimi altri operatori, di definire, progettare e di implementare. Considerate che comunque, vedete la parte a mia sinistra, che è la parte a mia destra, non è praticamente operare sulla creazione che è un'idea, una piattaforma di sicurezza che è utilizzata per tutti i servizi digitali, in modo che ogni comune non si debba, ogni amministrazione non tenda a dire la creazione di questi servizi, e, in maniera un po' più moderna, da quanto ho fatto nel passato, creare, e ne ho parlato di Mobility, si parla di Sparsity, creare il framework che permetta ai dati non solamente di entrare, ma anche di uscire ed essere utilizzati in maniera produttiva da tutti gli operatori che hanno bisogno dell'informazione dei dati da questi dati. Partiamo da un concetto molto importante, che è quello su cui ci siamo concentrati da qualche anno, e ringrazio tutti quelli che ha fatto la loro prima di noi, che è il concetto di piattaforma di Dante, che è lì sopra, su con la mia testa. Che cosa è la piattaforma di Dante? È una piattaforma che permette ai servizi di esistere e di essere usufruiti senza non avere ripetere investimenti tecnologici. Quindi, noi abbiamo un esempio che è quello di Spink. Quindi, nel tempo, nel tempo molto breve, perché Spink già esiste, tutti i servizi del Paese non devono avere un servizio di identità sicuro, creato all'interno dell'applicazione, ma utilizzare la piattaforma militante, costruita centramente, cerco di rendere l'idea. Altra piattaforma militante è quella di cui parleremo a breve, che è la piattaforma di pagamenti digitali. Io sono andato a regolare il passaporto, avete visto, dal diviso, si pagano di cash, sono andato a regolare il passaporto, con soldi di San Francisco, e mi sono impegnato a cercare di rendere l'interaposto a questo moneta. Ho dovuto pagare circa 22 dollari e 22 centesimi, camminando a un'agenzia di Western Union, tra l'altro, non avevo 10 centesimi, quindi sono andato a regolare per la prima volta, e tornare a prendere ceduta, andare all'un suo lato, e poi l'altro, passate qui a tre ore, velocissime. Però, per prezzo, inmediata forma militante, sicuramente, non capa. Vedendo, e cercando di essere connesso questo discorso, vedendo il fatto che noi conteniamo e celebriamo come risultato di avere dei posti in termini comunici di far riflettere su come sono tutti invitati. In questa presentazione non parliamo di Cryptocurrency, di Blockchain, di intelligenza artificiale. Stiamo parlando come permette al cittadino di pagare con una gara di cittadino. Chi deve far tutti riflettere? Ma è una visione necessaria, non si può parlare ad altro se non si mettono a posto con queste cose. Altra piattaforma militante è la grafica nazionale popolazione presidente. Votete capire che per me dovrò vedere che tutti i servizi digitali di qui sopra non costruiscono tutto questo di cui sto parlando adesso. Cos'è la grafica nazionale popolazione presidente? Un progetto più complesso che possiamo anche immaginare dal punto di vista tecnologico. Si tratta di unificare in un unico database i dati di tutta la popolazione che in questo momento sono sparsi in un'intervista di database. Non è che si debba fare questo per avere una grazzeria se non lo viste a fare lo stesso. Però i dati hanno un problema di aggiornamento. Ad esempio, io come cittadino italiano residente all'estero non sono all'interno di quel database. Quindi ci bisogna cercare di creare questa uniformità in unicidità con unicidità unicidità di dati. Altra piattaforma abilitante ad esempio fattura aria passiamo a destra passiamo ai dati anche lì ad esempio vedete la parola vocabolari non travolati quello che stiamo costruendo è anche l'ontologia della denominazione di dati in modo che gli 8200 comuni in Italia non li hanno le stesse cose di un centro di qualità diversa che crevendo la situazione adesso. Quindi capite? Tornaremo. Non è conclusione noi continueremo a fare i fascicoli digitali nel tempo dovremmo mettere in maniera molto più semplice molto più che si è la giuricita di l'ipa. Si passa sotto perché è una cosa altamente importante è sostanzialmente una maggiore organizzità alle infrastrutture fisiche. Dove stanno questi dati? In questo momento in Italia stanno su circa 10 11-15000 database sparsi su altri datacenter come si chiamavano datacenter del segretario comunale del piccolo comune al più grosso datacenter della Sogei in molti casi più fatti. Quindi si tratta di portare avanti anche questo percorso di razionalizzazione di datacenter. Quindi questo è molto importante per capire che per mettere a tutte le città in Italia di dare il loro fascicolo a tutti gli ecosistemi di tutti i loro servizi il lavoro che sta facendo a tutta la parte da intermodellità in giù. Volevo parlare esattamente di Pagopia. Quindi il Pagopia è questo modo che dovrebbe rendere più semplici i paglietti più inogliati e più inogliati con i nostri paesi. D'avvio dire economico non solamente dal punto di vista della tecnologia del pagamento ma anche per la punta di amministrazione. Il Pagopia è una piattaforma che permette la riconciliazione immediata dei pagamenti quindi una simplicazione di quando è nostra l'amministrazione dei pagamenti stessi quindi facilitazione dell'utente che pagherà il banale più semplice e facilitazione della amministrazione di questi pagamenti. Pagopia non è solamente pagamento digitale fatto online ma abbiamo disegnato anche la struttura fisica degli avvisi di pagamento che vedrete poi in un'altra meglio in pochi secondi quindi vedrete una avvisi di pagamento di un tipo e in questo di pagamento vi valgono anche il QR code che ha possibilità di pagare questa cosa importante non solamente online ma anche sul territorio non siamo vicini a un monte in cui tutto che va pagato sul telefono esiste ancora la fetta della popolazione che può finire di andare a paccaio e poi andare all'ufficio costale che non era la costita di imprendere più efficiente che questo punto vi direi che questo punto mi sembra questa è la non l'ottifacione del Pagopia però a parte della filmata vedremo un senso di un'oppressione un'oppressione verso la pubblica amministrazione soprattutto dal tuo smartphone poteva essere scomodo o complicato per aiutarti esiste Pagopia il punto unico di pagamento per tutti i cittadini italiani Pagopia permette di eseguire pagamenti verso la pubblica amministrazione in modo facile e sicuro puoi pagare senza registrati oppure salvare i tuoi metodi di pagamento di primi usando speed o rimetti usa il tuo conto corrente grazie a integrazioni con il documento o con la delle tue paghe oppure paga con la carta di credito in pochi e semplici passaggi aggiungi quando vuoi nuovi metodi di pagamento pago via memorizza le tue scelte e ti consente di pagare in pochi secondi ovunque di trono se ricevi un avviso di pagamento in un'accia puoi pagarlo direttamente a un'altra o dall'altra delle tette creditori oppure se preferisci puoi confondere un pagamento in uno dei grandi sottenti abilitati sul territorio trovando oggi un pello più vicino a te l'ente creditore sarà subito che il tuo pagamento è un accordo a fine e intaserà la somma senza inutili attese e senza rischio di ruolo pagamento in seguito in seguito ovunque ti trovi la prossima versione di pagopiata l'alco se non so se ne ho provato con certi di piare è chiesto di piare in modo che i nuovi sistemi di pagamento si possono integrare con Pagopià quindi se volessero in parte se possiede nuovi sistemi di pagamento per i problemi moderni potranno collegarsi diventamente all'applicazione allora Pagopià non è nuovo Pagopià è stato lanciato nel 2015 25 mila transazioni al primo anno 150 al secondo siamo a 1 mila e con lo sforzo di tutti e questo non è una piccina che 10 milioni può essere un numero elevato che è un numero che dovrà arrivare a 100 milioni 200 o 300 milioni di azioni però quello che ci aspettiamo per quest'anno è il fattore di pubblica amministrazione dell'oggetto per esempio i comuni di Milano i difenditori che si integrano e educazione da parte di tutti e noi adesso c'è il cittadino non si sente di più questa possibilità che è un processo che va al di là della produzione di Pagopià indicata in alcuna buona parte di moltissima noi stiamo collaborando chiaramente con il sette comuni non è che stiamo lavorando solo con queste sette comuni anzi con tantissimi altri però stiamo usando queste sette comuni che sono Milano Torino, Venezia, Firenze Roma, Valle, Palermo per le implementazioni di progetti strategici quindi su NPR Pagopià Sfilde la lavoriamo direttamente in modo poi di produrre risultati anche per le altre condizioni l'ultima cosa di cui vorrei parlare è un prodotto che abbiamo lanciato venerdiscorso esattamente dieci giorni fa che è sostanzialmente una piattaforma per gli sviluppatori e breve lanciarono una piattaforma per il design che cosa vuole questo abbiamo sostanzialmente interpreso un nuovo modo di cambiare il modo che lo vuole avviare con gli sviluppatori la piazza spesso interposta e relazionava con il mondo esterno regole e documenti giuridici ma stanno invece esprimendo la documentazione del software il codice il framework ci sono formali di discussione sostanzialmente un modo moderno per migliorare le piattaforme e gli applicativi che vengono in massima all'interno e della pubblica amministrazione di rapporti con il cittadino questo è il new brand della possibilità della Pulti in questo momento abbiamo esposto a questi tre servizi speed parro pia e fattura pia che è sostanzialmente la fatturazione elettronica perché ricordatevi ogni volta che si lancia un prodotto si rischiano speed parrochiata parrochiata ma anche lo stesso cittadino è la versione 1.0 ci dovrà essere la 1.1 la 1.5 la 2 la prima sarà piena di barbio sarà piena di difetti cioè come ogni progetto va migliorato e in modo statico di investire questa è una delle cose che dobbiamo mangiare nel tempo di sonda che è come utilizzare meglio la le tecnologie di vendere esterne tra la pubblica amministrazione per migliorarli spesso per fare una nuova gara aspettare il ricorso aspettare il pronto riporso forse si fa partire a qualche cosa di nuovo cerchiamo di disporre questa non è la soluzione del problema è un modo di cambiare le modalità cerchiamo di migliorare le piattaforme tanto per darmi un'idea abbiamo lanciato quello di Veropress Uniti avviene il discorso in tre giorni sono registrati più di mille iscritti e dovremmo avere molto di più questo livello perché un'idea di vala che seguire e ascoltare andare a vedere su un'indicatore software dall'altra parte che parla con loro ma la cosa interessantissima è che non l'abbiamo lanciata con una versione solamente di prima pagina in inglese perché stracciano in italiano in inglese la community nel stesso giorno ha tenuto internet in inglese tanto per darvi un'idea di quello che una community amministrativa può fare detto questo io questo tra l'altro è la schermata che vi faccio sento per sapere se potete seguire come mi stiamo facendo e come stavo provvedendo vi ringrazio tantissimo e passo la parola a tutti grazie grazie